Salve a tutti, questo primo appuntamento è un primo video di una serie che chiameremo le basi del trading su etoro che ho intenzione di fare per spiegare un pochino cosa significa fare trading su etoro e orientarvi nel vostro trading su etoro. Io sono iscritto da etoro dal 2017, quindi ho accumulato un po' di esperienza, adesso sto cercando di fare il popular investor e quindi posso darvi dei consigli su come comportarvi su etoro e quali aspettative potete avere dal trading su etoro. Se siete qui probabilmente siete interessati a fare trading perché pensate di fare soldi, cosa comune a tutti. Vi voglio subito distogliere dall'idea che basta utilizzare 50 euro e diventare milionari o 200 euro e diventare miliardari. Il trading è una cosa su cui si può guadagnare, sicuramente etoro è uno strumento molto utile perché vi consente di copiare dei trader affermati e quindi guadagnare e imparare anche perché l'obiettivo deve essere comunque secondo me per chi ne ha voglia chiaramente di essere un minimo indipendente cioè si può avere un portafoglio metà con social trading quindi copiando un trader professionista e metà gestito da sé. Quindi questa iniziativa ha la funzione di invogliarvi a utilizzare etoro ma con un approccio di trading consapevole. Insieme a questi video e poi il mio canale che si chiama trading idea di cui vi metterò il link nella descrizione potrete avere un approccio consapevole per il vostro trading su etoro. Io giornalmente poi rilascio delle analisi su tutti i tipi di mercati quindi quando avrete un po' di mistichezza su trading etoro è uno strumento che potrà essere molto utile. Basterà che vi registrate con il link che vi metto in descrizione o con quelli che troverete sul canale telegram. In descrizione vi metterò sia il link per il canale telegram sia il link per registrarvi con etoro attraverso il mio account in modo da avere una serie di servizi che vi spiegherò nel corso dei vari video. Tornando però a noi. Quando voi vi registrate su etoro vi trovate questa schermata blu. In realtà se guardate sulla sinistra questo pannello c'è il vostro nickname. Questo per esempio è il mio. Qua avete due opzioni investi e virtuale. Virtuale vuol dire che siete in un conto demo, utilizzate dei soldi ma non sono soldi veri, non sono soldi del vostro conto. Per utilizzare i soldi del vostro conto dovete diventare, aprire un conto reale. La possibilità di avere il mio aiuto è solo a seguito dell'apertura di un conto reale. Vi consiglio di guardare i video, di sperimentare, di guardare il mio canale telegram, i consigli che vi do anche sulla scelta del miglior popular investor e poi di entrare con un conto reale. Investire non tutto ma una parte del vostro capitale attraverso i miei consigli, attraverso il mio aiuto potrete utilizzare un modo di fare trading consapevole che non vi farà perdere il conto nel giro di poco. Perché non credete alle pubblicità che vi dicono che in un mese diventerete milionari? Se voi investite 500 euro in un conto e fate il 20% in un anno, che è una cifra veramente difficile da raggiungere, ve lo posso assicurare, voi guadagnerete la cifra di 100 euro. Se faceste il 50% guadagnereste comunque 250 euro, non diventerete mai milionari. Quindi diffidate da questo tipo di pubblicità, che serve un po' per portare la gente. La gente può comunque iscriversi perché facendo un trading consapevole si può guadagnare dal trading, non diventare ricchi in un giorno, non avere una rendita fissa ogni mese, perché questo non è possibile, potete guadagnare il 5% un mese, ma guadagnare il 2% il mese successivo, perdere il 3% il mese successivo ancora. Però se sapete utilizzare bene l'analisi tecnica, l'analisi fondamentale, vi appoggiate a un buon trader, seguite e mi seguite, potete fare ragionevolmente un 20-25% all'anno del capitale che avete investito. Allora, qua vedete lista preferiti, quindi prima opzione è virtuale, con soldi non reali, reale, qua schiacciate, portafoglio reale, passate a portafoglio reale, non è più blu ma diventa di questo colore, non più celeste. Qua state usando soldi reali, questo per esempio è il mio conto, che in questo momento ha un portafoglio vuoto. Ok, ritorniamo al virtuale, vai a portafoglio virtuale, ok, qua avete quello che avete investito nel portafoglio, per esempio io ho aperto una posizione su Johnson & Johnson, l'ho aperta a 151,80, in questo momento il prezzo è a 147,33, io ho aperto una posizione cosiddetta long, cioè ho pensato che il prezzo da 151,80 potesse aumentare, in realtà il prezzo sta scendendo, è a 147,33, dei miei 50 euro, io sto perdendo 1,47, che è il 2,94% di quello che ho investito, ok? Per aiutarvi in merito a questi aspetti c'è un video su un corso di, le prime diciamo, la playlist che riguarda i primi passi nel trading, in cui vi spiego come aprire e chiudere una posizione su i toro. Quindi sostanzialmente qua avete quello su cui state investendo e come sta andando in sostanza. Qui avete la bacheca dove anche voi potete scrivere qualcosa su uno strumento finanziario, condividere un'analisi, andate qua su questa matita e potete scrivere qualsiasi cosa. Se poi, per esempio, volete scrivere sul euro, sul euro-dollaro, mettete s di dollaro, scrivete euro-usd, ok? Poi mettete un'analisi, scrivete qualsiasi cosa, caricate una foto e mettete pubblica. Oltre che nella vostra pagina personale, in questo caso di idea trading, comparirà anche nella pagina di euro-dollaro, ok? Perché se io vado qua su euro-dollaro, ok? Qua vedete, avete i commenti, le analisi di varie persone, quindi finirà qua, se mettete la s di dollaro prima, lo strumento che state analizzando. Qui i mercati, trovate i vari mercati, ci sono i mercati in movimento, cioè quelli che hanno maggiori volumi tecnologico, il mercato degli ETF, il mercato delle monete, cioè delle criptovalute, potete vedere tutti i mercati che possono in qualche maniera interessarvi, ok? Veniamo adesso alla parte che è più interessante che quella su persone, andate qua su persone e trovate una lista di vari trader. Questa è la cosiddetta scelta del dell'editore, cioè quelli che hanno, che sono stati scelti da etoro per rappresentare il vostro, come possibili occasioni di possibili investitori da copiare. Qua trovate un numero che, per esempio, il rischio 6, vuol dire che è un rischio elevato, perché il rischio parte da 1 a 6, più di 6, mi sembra non possa essere, non possa essere copiata una persona. Quindi, anzi, c'è anche 7, non può essere più di 7. Quindi se copriate uno che ha un rischio 7, potreste guadagnare molto, ma potreste perdere buona parte del vostro patrimonio, quindi è molto rischioso. Se invece preferite copiare qualcuno che ha un minor rischio, dovete guardare uno che ha un rischio 1, un rischio 2, un rischio 3. Per esempio, io ho un rischio 2. Quindi, se doveste decidere di copiare me, Idea Trading, avreste un rischio 2 percentuali inferiori, ma minore possibilità di essere, di perdere il vostro capitale Qua trovate anche i più copiati, cioè chi è più copiato in questo momento e chi ha preso tendenza, chi ha preso maggiori guadagni in un determinato mese. Allora, io non vi consiglio di guardare tendenza, perché il fatto che un trader guadagni lo 78,60% in un mese o il 44,83% non vuol dire che il mese successivo non può saper perdere tutto. Meglio scegliere qualcuno che ha, sia che abbia rischio, vedete qua abbiamo un rischio 2, un rischio 6. Se io apro qua su Geremis, guardo le statistiche di Geremis, e qua vedete tanto verde, ok? Un rischio però piuttosto altro, Geremis a 1.501, cerchiamo di allargare, se no non si vede bene, dicevo a 1.501 di copiatori, ok? Qua ha fatto un 14%, 2%, 0,24%, sempre stato positivo, quest'anno. Quindi abbiamo delle percentuali lusinghiere che vanno dal 14% fino a arrivare a un minimo di 0,24%. Il fatto che sia positivo questi mesi non vuol dire che il prossimo mese possa fare un meno 40%. Da cosa dipende il rischio 6? Il rischio 6 può dipendere o dal fatto che, per esempio, sul suo capitale, facciamo che Geremis investa 1.000 euro del suo capitale, investa 1.000 euro, ha 1.000 euro sui toro e ne investe, facciamo, 800-900, investe grande parte del suo capitale, 900 euro su 1.000. Questo gli fa alzare il rischio, perché evidentemente ha poco capitale da investire. Se succede qualcosa e il mercato va a ribasso, lui avrebbe solo 100 euro e avrebbe quasi tutto il capitale già impegnato. Quindi questo è già di per sé rischioso. Altro elemento che fa alzare il rischio è l'utilizzo delle leve. Perché io posso fare due scelte. Posso investire, per esempio, voglio investire su Amazon, ho la possibilità di investire 50 euro su Amazon. Posso investire 50 euro su Amazon con l'Eva 1 e mi investo i miei soldi. Pensando che Amazon aumenti il suo valore, se Amazon aumenta il valore, guadagnerò da quei 50 euro, guadagnerò 51, 52, 53. Ok. Però se investo su l'Eva 1 non mi verrà mai chiusa la posizione. Anche se arrivo a rigore a perdere il meno 80%, la posizione non mi viene chiusa. Al contrario, se inserisco una leva, che può essere una leva 2, 3, 4, 5, A parte che non me lo farà fare con 50 euro, ma dovrò metterne 200, metterò una leva magari 5, non lo so, faccio un esempio. Se io metto una leva 5, in realtà non sto investendo 200 euro, ma sto investendo 200 per 5, cioè 1000 euro. La percentuale di guadagno su quelle 1000 euro sarà di, se guadagno il 10%, guadagnerò 100 euro, quindi sarà 1100. Però, attenti, se perdete il 10%, perdete non il 10% di 200, ma il 10% sempre di 1000. E quindi, sì, guadagnerete 1000 euro, ma guadagnerete, scusate, 100 euro, ma ne perderete anche 100. Quindi la leva è vero che vi fa aumentare le possibili profitti, ma vi fa anche aumentare le perdite. Quindi un trader che utilizza la leva utilizza un approccio di rischio più pericoloso. Quindi, se trovate rischio seri, probabilmente o utilizzano gran parte del capitale, quindi ho 1000 euro a disposizione su Ettoro, ne investo 900, che ho già aperto su azioni, mi rimane poco capitale. Oppure utilizzano una leva, quindi possibilità di maggiori profitti, ma anche possibilità di perdere anche tutto. Al contrario, l'utilizzo di una leva bassa significa, l'utilizzo di una leva 1 e l'utilizzo anche di un capitale basso, significa sostanzialmente che io sto usando una piccola parte del mio capitale per fare trading, ne ho gran parte libero, e utilizzo delle leve basse. Per esempio, se io guardo il mio account, ok, se guardiamo, mettiamo idea trading, ecco qua, guardate le statistiche mie. Vabbè, qua guardate c'è un brutto rosso, perché qua stavo iniziando a capire come devo fare trading, se con un approccio più o meno rischioso. Ho deciso, e questi sono i miei risultati degli ultimi due mesi, di utilizzare un approccio più conservativo e quindi di attenermi su un profitto medio dell'1% per arrivare a un profitto anno del 20% su un livello di rischio non superiore al 3%. Se guardate le mie statistiche potrete notare che il mio rischio è comunque inferiore, cioè io ho un rischio 2 o 1. a seconda di quello, di quanto sto utilizzando nel mio capitale. Vedete qua ho utilizzato il mio approccio conservativo, qua ho fatto una prova con un approccio utilizzando leve e quant'altro, vedete quanto ho perso. Quindi io ormai utilizzerò questo approccio che ho usato nei primi due mesi e quindi arriverò a dicembre con un profitto di almeno, diciamo cercando di fare al mese almeno un 1%, un 1% di media. Ok, come questo mese è agosto quindi magari non ce la farò perché non è utilizzabile tutti i giorni, però questo è l'obiettivo. L'utilizzo di un approccio invece più pericoloso può portare a questi tipi di risultati. Quindi state attenti quando scegliete la persona da copiare perché il profilo di rischio è molto importante. dovete anche, per esempio andiamo a vedere questo ragazzo, ok, questo ragazzo ha fatto nel 2020 fino a marzo negativo, poi ha preso un buon trend positivo. Prima di tutto vi consiglio di vedere trader che hanno uno storico, questo ragazzo ha fatto per esempio 28,58 l'anno scorso, quest'anno è sui 16,81, ha 3 mesi negativi, però non dovete neanche farvi troppo condizionare dei mesi soltanto negativi, perché se io apro una posizione per esempio a marzo, ok, facciamo che io apro una posizione a marzo su Amazon, per marzo questa posizione va in negativo, quindi mi segnerà un patrimonio negativo. In realtà questo rosso non è una preta reale perché io ho aperto la mia posizione in acquisto ma non l'ho mai chiusa, aspetto che mi vado in profitto. Quando mi vado in profitto la chiudo ad aprile e quindi diventa un valore positivo, ok, quindi il fatto che sia negativo non vuol dire che ci sia stata una perdita reale, cioè se io sono partito dal mese di febbraio con 1000 euro e poi nel mio patrimonio me ne trovo 900 euro, ok, ma in virtù di posizioni che sono in negativo ma non sono ancora chiuse, ok, non vuol dire che questi siano delle perdite già reali, vuol dire che magari quella posizione richiede un po' di tempo per andare in profitto e io ne usufruirò il mese successivo. Quindi se voi a volte ci sono dei tre, per esempio, ecco, Oliviero, ecco, guardate le statistiche, vedete questi grandi risultati, in realtà ha fatto l'1%, qua ha fatto lo 0,26, lo 0,22, lo 0,10, 0,21, 44, qua ha fatto lo 0,04, cioè cosa vuol dire 0,04? Ma facciamo 0,21, vuol dire che se avete investito 1000 euro al mese di maggio, lui vi farà guadagnare sostanzialmente 20 centesimi, ok, che è lo 0,21, no, scusate, 2 dollari, cioè su 1000 dollari guadagnerete 2 dollari, ok? Perché probabilmente lui in quel mese chiude tutte le posizioni, non ha posizioni in negativo, e per quello gli compare verde, se guardate anche gli altri mesi, Oliviero è sempre in verde. Quindi se vi interessa un trader che vi garantisce un profitto minimo ma costante, sicuramente lui è la scelta giusta. Se vi interessa un trader, però diciamo ora come ora, in tutto il 2020, vi ha fatto guadagnare il 2,30%, quindi se avevate 1000 euro a gennaio, in questo momento avreste 1022 euro sostanzialmente, ok? Quasi mai in perdita però, tutto il 2019 è guadagnato l'8%, l'840, quindi su 1000 euro vi guadagnereste circa, allora l'1%, 80 euro, quindi su 1000 euro le guadagnereste se resta a 1080. Quindi è un trader che vi dà una affidabilità costante nel tempo, non vi fa perdere ma vi fa guadagnare di meno. Profilo di rischio molto basso, guadagno inferiore. Profilo di rischio alto, utilizzo di maggiore capitale, guadagno superiore ma più rischio. Quindi dovete capire cosa vi interessa, potreste anche prenderne uno con un profilo di rischio basso e uno con un profilo di rischio alto per compensare le due scelte. Senza dubbio è utile perché vi dà la possibilità di utilizzare il trading appoggiandovi all'esperienza di trader affermati. Per quanto concerne la scelta del trader dovete guardare, uno, che ci sia da diversi anni, Olivier per esempio c'è da tanti anni, due, che ci sia da il rischio, che il rischio volete da 1 a 3 è poco rischioso, sopra i 3 vuol dire che utilizza o molto parte del suo capitale o che usa leve, che sono un'arma a doppio taglio, vi possono far guadagnare molto ma vi possono far perdere anche molto. Quindi dovete utilizzare, dovete capire voi quanto volete rischiare del vostro capitale. Questo è un punto basilare, quindi o scegliete un profilo come il mio che ha un rischio basso e vi porta a un guadagno non più. Non elevato, però costante nel tempo, superiore spero a quello di Olivier, perché il mio obiettivo è arrivare all'1-2% al mese. Quindi vi chiedo di seguirmi e poi di copiarmi nel momento in cui vi rendete conto che vi posso assicurare questo tipo di rendimento. Oppure un profilo più rischioso, più profitto possibile, però con il rischio che un mese il mercato cada e perdiate buona parte del vostro capitale. Perché se io ho molto capitale in utilizzo, il mercato cade, comunque sia io quelle posizioni le vedrò in negativo e perderò dei soldi. Anche perché non posso reinvestire con altri soldi se ho utilizzato quasi tutto il capitale. Se poi ho usato la leva, se perde il 50%, la posizione viene chiusa con una perdita reale questa volta. Quindi dovete stare attenti a queste due differenze. Oltre a me stesso vi posso poi consigliare questo trade. Vi posso consigliare Gerald, diciamo, che è un ottimo trader. Perché utilizza un approccio a medio termine, ha un buon profitto che ha conseguito nel corso di diversi anni ed inoltre ha la capacità di avere delle grandi intuizioni, cosa che non è da tutti. Per esempio ha investito su Ethereum, che è una criptovaluta, facendo guadagnare molto quando nessuno stava in quel momento pensando a quel risultato. Se noi guardiamo per esempio le statistiche, vedete qua ci sono dei piccoli rossi, ok? Però lui già nel 2020 ha portato a casa un 21%, nel 2019 ha portato a casa un 11,51%, cioè ha guadagnato costantemente per diverso tempo ed ha un trend positivo da diverso tempo. Non fatevi se spaventare da questi rossi che possono essere posizioni aperte, perché lui investe sul moto, cioè quale ha il portafoglio. In questo momento ho aperto solo Nasdaq e NMCL. Se voi guardate però la cronologia, vi rendete conto che ha chiuso moltissime posizioni in Nasdaq, però investe molto su azioni e su indici, non trada sul Forex. Comunque solo a gennaio ha portato un 13,29%. Questi risultati negativi non sono posizioni chiuse, cioè non è mai chiuso in perdita, ma sono posizioni aperte che quel mese facevano partire in negativo. Perché funziona in questa maniera. Se io parto dal gennaio a 1000, se questo è 0,60, vuol dire che ho perso lo 0,61 di 1000. Poi se questo diventa rosso, vuol dire che ho perso lo 0,57 del patrimonio del mese precedente. Qua invece vuol dire che ho guadagnato l'1,18 del patrimonio che avevo il mese precedente. In questo patrimonio, in questo conto patrimonio però, nella valutazione del patrimonio, sono conglobate anche posizioni che io ho aperte, che sono in negativo e che ancora però non ho chiuso. Quindi il fatto che siano rosse non vuol dire che diventino in profitto il mese successivo e diventino verdi. Con questo ho un po' chiarito quali criteri vi devono guidare nella scelta del trader da seguire. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi chiedo di iscrivervi al mio canale Telegram, di registrarvi su Ettore con il mio link. Di seguire il mio canale Telegram per iniziare ad avere dimistichezza un po' con l'analisi tecnica. Vi posterò alcuni video sull'analisi tecnica fatti da me, in modo che potessiate iniziare a capire come aprire una posizione, un po' come funziona la piattaforma di analisi tecnica su Ettoro. Sono cose che ho già analizzato e che metto a vostra disposizione. Grazie per l'attenzione e ci vediamo per il prossimo appuntamento sulle basi del trading su Ettoro. Grazie molte e a presto ragazzi. Grazie mille. Grazie mille.